Sapete che ogni tanto c'è semena dentro i sbogliatori, no? Non siamo come l'Italia, che andiamo con la Svezia e ci fanno pure menà. Oltre che è una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e noi stiamo urlando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva. Adesso ci menano e piangiamo. E c'è la differenza tra il calcio italiano. A portare tutti i stranieri in Italia è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. E il calcio italiano è finito. Pariolini. Usciamo anche da sto mondiale. Per paura. Siamo in Svezia e abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioca con la paura, io me ne vado e ci metto un altro più coraggioso. Perché può darsi che io gli ho trasmesso paura. Ma veramente abbiamo perso con chi io? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale. Perdemo tutti, eh? Perdete voi giornalisti. Perdiamo noi addetti ai lavori. Perde l'Italia. Ci dobbiamo svegliare. Dobbiamo cambiare le regole. Le primavera sono fatte tutte da stranieri. Basta! E il calcio è fatto agli italiani. Questo è il campionato italiano. Se no no, fra il campionato europeo e mondiale. E qui ogni mese ne esce uno. Oriundo. Mettiamo dentro. Ma andassero a più agli italiani nei campionati di Serie D e Serie C. Dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono... Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo. Vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura che succede? Che te fai? Autocop. Quando c'hai paura ti fai autocop. Quando giochi con la paura? Senza di ramporta? Ma questi mo' ci vanno sta fino a lunedì? Con sto pensiero che uscimo fuori dal mondiale. Ma è una vergogna. È una vergogna.